Il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università dell'Aquila festeggerà il 14 e 15 ottobre prossimi i suoi primi 50 anni. Venne istituito infatti negli anni 60 sotto la guida del professor Ricamo, al quale sarà dedicata una targa commemorativa. Siamo fisici, quindi il nostro primo scopo è quello di fare ricerca, cioè di fare gli scienziati. Però chi si iscrive a fisica ha altri sbocchi, che sono attività di servizio come nella scuola. Infatti andiamo a dare un riconoscimento, una targa di riconoscimento, per esempio a un docente che si è fortemente impegnato nell'insegnamento della fisica nelle scuole. E poi ci sono altri settori, settore privato, ma anche dei settori inaspettati, come la polizia scientifica, la fisica medica. Un fisico trova diverse collocazioni, oltre che fare ricerca e stare nel laboratorio. Slogan della manifestazione è identificarsi per identificare, come spiega il professor Visconti. A sottolineare la passione, lo studio e il rigore scientifico che hanno contribuito a far crescere e distinguere l'Università dell'Aquila nell'ambito della ricerca scientifica italiana ed europea. Il nostro dipartimento si è occupato di settori che non venivano abbattuti in altre università. Il secondo è che questo ha dato luogo a interessi che hanno portato alla costituzione di cose come il GSSA e il laboratorio del Gran Sasso. Grazie. Grazie.